L'orgoglio di una vallata si mette in mostra esponendo produzioni e tradizioni con la capacità di coinvolgere direttamente il visitatore consumatore. E' questo il Valle Bio Festival 2019 che si svolge sabato 1 e domenica 2 giugno a Varese Ligure nel cuore del biodistretto Valdivara Valle del Biologico. Saranno due giorni in cui si incontreranno aziende agricole, produttori ma anche consumatori perché è il momento di capire che vivere biologico deve essere una scelta di vita consapevole. Gli stand dei produttori sono allestiti nella piazza, nelle vie centrali del Borgo Rotondo intorno al castello dei Fieschi che per l'occasione sarà visitabile. Spazio inoltre allo street food e ai presidi slow food. Avremo laboratori in cui i bambini potranno conoscere da vicino come si costruisce il cibo, come viene fatto il cibo, da quando si coltiva a quando viene servito nei nostri piatti. Ci saranno poi seminari per capire quale sarà e quale deve essere il futuro dell'agricoltura biologica in Valdivara ma non solo in Valdivara. E quindi si potrà toccare veramente con mano quello che è il prodotto vero che tutti quanti noi dovremmo riuscire a mangiare nei prossimi anni. Un settore del Valle Bio è destinato alla mostra di bestiame. Sono presenti tra gli altri capi di diverse razze allevate in Valdivara secondo i criteri del biologico. Nutrito il calendario di incontri e seminari dedicati tra gli altri al vino naturale e alle erbe naturali commestibili e alla birra agricola. Ci saranno laboratori per quanto riguarda la degustazione della birra, quindi come si fa la birra, come si può ottenere la birra da prodotto coltivato nel territorio. E a fianco ai laboratori ci sarà anche una gara particolare che vedrà coinvolti gli amministratori. Certo, abbiamo diciamo così pensato di costruire questa piccola gara che verrà fatta appena dopo l'inaugurazione, quindi sabato intorno alle 12.30-13, dove le autorità si cimenteranno in una gara di cucina. Si costruiranno proprio perché è stato costruito uno stampo proprio ideale del croxetto classico di Varese Ligure. Chi costruirà nel più breve tempo possibile i più bei croxetti vincerà la gara. Il festival è aperto anche ai settori dell'energia pulita e ai produttori non certificati bio, ma di carattere strettamente rurale e che seguono criteri di naturalezza per i metodi e i materiali che impiegano. Spazio poi anche ad una serata di musica e cabaret. Sabato sera con i comici Balbo, Ting e Cecon, a seguire il DJ set e quindi anche per i giovani una bella serata di intrattenimento. Il Valle Bio è organizzato dal biodistretto Valdivara Valle del Biologico insieme al comune di Varese Ligure con l'adesione della regione Liguria. Quindi un'ottima occasione anche per rilanciare la Valle del Biologico anche dal punto di vista turistico. Perché c'è aria buona, territorio sano e buono, ma anche cose da mangiare buone e cose pronte che si possono degustare al momento.